Tutti che flexano le proprie macchine, io la macchina qua non ce l'ho, ma ne sto tenendo una in mano che è un po' più piccola di una macchina, non si può guidare, però è anche un po' più grande di un chicco di caffè Oggi vi mostro questo diamante naturale da due carati e30 BVS Color H Guardate che capolavoro E vi assicuro che forse dal video non rende, ma un diamantino del genere è importante Guardate che roba E voi adesso starete pensando, sì vabbè ma quanto può valere una robetta del genere? Non ve lo dico, fatemelo sapere voi nei commenti, vediamo se più o meno vi avvicinate Adesso venite, ve lo faccio vedere da più vicino Guardate che roba, ve lo faccio vedere anche da dietro Ovviamente taglio brillante Guardate che capolavoro Guardate che spettacolo